Atteso titolo di apertura della stagione teatrale 2017-2018 del Teatro del Giglio, in prima nazionale venerdì 13 ottobre alle 21, This is Hollywood, il musical, porta in scena un'orchestra dal vivo, cantanti e ballerini, come nella miglior tradizione del musical. Scritto e diretto da Aldo Romani Innocenti, This is Hollywood ha già avuto un'anteprima in forma di concerto all'auditorium del Ciocco lo scorso 1 gennaio. Protagonista dello spettacolo è l'attrice e cantante resa famosa dal musical I Promessi Sposi, Noemi Smorra, nella doppia veste di Marie Duplessis, protagonista della traviata di Giuseppe Verdi, e di Vivian Ward, protagonista del film Pretty Woman, interpretata da Julia Roberts. Due storie, quelle di Marie e di Vivian, tra le più belle della letteratura, del teatro e del cinema di tutti i tempi, che corrono parallele, raccontando quanto sia umana e universale la ricerca dell'amore e della felicità, e quanto essa sia inscindibile dalle contraddizioni e dal dolore. Già l'anno scorso abbiamo presentato Vacanze Romane, come musical, e è stato un buon successo. Questa volta è una produzione, presentiamo This is Hollywood, che ha debuttato, sì, al Ciocco, il primo gennaio scorso, ma viene presentato qui a Giglio in una versione completamente diversa, più ricca, con un'orchestra rafforzata e anche con una struttura teatrale e drammaturgica più forte. È una festa del teatro e della musica, sono sicuro che avrà un ottimo impatto anche sul pubblico e sugli spettatori, che sicuramente apprezzeranno.